Eh? Mi stai chiedendo scusa? Mi stai chiedendo scusa? Non capisco, non capisco proprio. Il primo è questo lavoro. Cosa? Cosa vuoi? No, non funziona così. Non funziona proprio. Non funziona così. No. No. Stai sbagliando. Stai sbagliando. Stai proprio sbagliando, Stai. Non riesco a prendergli la testa. Stai sbagliando, Ettore. C'è messo in difficoltà a fare il taglio in un golinio. No, no, no. Hai capito dove hai sbagliato? Hai capito? Hai capito? Hai capito dove hai sbagliato? Mi sembra che tu abbia capito. Eh? Eh? Cosa? Cosa? Mi fai male? Cosa? No. No. Cosa? Va bene, facciamo pace. Facciamo pace. Facciamo pace. Facciamo pace, va bene? Abbiamo fatto pace. Bisicchi. Grazie a tutti.